Va bene, allora lo faremo sapere. Grazie. Grazie a lei. Arrivederci. 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 Buongiorno. 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 Sì, Paoli. Ci parliamo un po' di lei. Dunque, io sono Silvia Dalpaos, ho 26 anni e lavoro da 5 anni in un'azienda grafica di Cerea, per cui gestisco appunto la parte grafica e anche quella del copywriter. Ecco, io lavoro appunto da 5 anni in questa azienda, ma il mio consiglio sarebbe di poter venire a lavorare con voi, perché questa azienda è veramente conosciuta e lavorare sotto il vostro nome sarebbe un gran passo avanti per la mia carriera lavorativa. Non voglio sapere, più che altro mi interessa sapere il perché lei vuole lasciare questa azienda, se comunque ha un contratto indeterminato. c'è un contratto indeterminato. Sì, io ho un contratto indeterminato, questo è quello che mi rende scura. Adesso, io mi sono perfettamente d'accordo con quello che lei sta dicendo. Però Cerea è una realtà troppo piccola per i miei standard e siccome la mia famiglia è originaria di Verona, io mi sono trasferita a Cerea solo nei due anni per poter lavorare presso questa azienda, sarebbe veramente una... io sarei veramente molto contenta di poter ritornare a Verona, sia a lavorare ma anche per vivere. E come ci ha trovato? Dunque, la vostra azienda è veramente famosa in tutta la provincia di Verona, perfino a Cerea si conosce, ovviamente. Io li ho conosciuti tramite giornali di grafica che acquisto spesso in edicola, sia per passione ma anche per lo stesso lavoro. E mi seguivo sempre in pubblicità della vostra azienda, ecco. E quindi a me mi ha sempre ispirato e mi farebbe veramente molto piacere interlavorare per voi. Ok, sì, volevo chiedere i suoi studi precedenti, quali sono stati? Ecco, allora io ho fatto gli studi classici a Verona e questi studi mi hanno permesso di avere un'ampia conoscenza culturale di base. Dopodiché ho deciso di frequentare l'università di grafica perché fin da quando ero piccola mi è sempre appassionato questo mondo della grafica. Quale università hai frequentato quindi? Ho frequentato l'Istituto Intificio Salesiano di Venezia, con sede però a Verona. Conoscete? Sì, sì. Ha portato qualcosa da farci vedere? Qualche suo lavoro recente? Guardi, sinceramente adesso che mi ci fa pensare io spero che questo non sia un punto a sfavore del mio colloquio perché non ho portato niente. Però ho visto che quando è entrata avevo una valigetta, magari al computer, ha qualcosa da farci vedere? Ha ragione, adesso ci penso sì. Sto lavorando per un progetto attualmente per l'azienda, sto lavorando per la vostra fine e mele. Un lavoro di gruppo insieme ai miei colleghi di lavoro. Noi stiamo preparando questo catalogo per le lavatrici miele con esclusivo cassetto 3D. Sono innovative e devo ancora uscire sul mercato. Ecco, di questo catalogo io ho lavorato soprattutto per la parte grafica. Per quanto riguarda le fotografie che ci tengo a precisare non sono state scattate da me, ma sono state rielaborate in un secondo momento da me. Poi ho curato la scelta dei colori, il verde soprattutto, che si abbina molto alle lavatrici ecologiche, mille. La scelta dei font, della griglia di base e di impaginazione. Ecco, questo lavoro lo stiamo facendo adesso con i miei colleghi sotto l'azienda Vento di Cerea e uscirà fra qualche giorno il catalogo, quindi per ora è ancora inedito. Va bene. Ok, ecco. Quindi nel lavorare in gruppo si trova bene? Sì, diciamo che mi trovo abbastanza bene in gruppo. Preferisco lavorare da sola, ma anche con il gruppo mi trovo molto bene. Anche perché sa comunque in una zitta grafica ci si trova comunque. Sì, la collaborazione è fondamentale, sì sì, ha ragione. Il suo punto di forza qual è? Dunque, pensandoci bene, i miei capi sono sempre fatti soddisfatti dei miei lavori che spaziavano in tutti i settori della grafica, quindi vado abbastanza bene in tutto. Però se devo essere sincera, mi hanno spesso fatto i complimenti per le scelte innovative degli slogan che creavo nelle campagne pubblicitarie. Attualmente non so farvi degli esempi perché ultimamente slogan non ho avuto troppo l'opportunità di farne, però mi hanno sempre fatto i complimenti, ecco. Quindi potrei mostrarvi anche a questo punto. Magari potrebbe mandarci un via mail così guardiamo un po'. Certo, certo. Io non so se tu hai domande da fare, dimmi. Io sono, scusate. Sei a posto? Io volevo sapere se questo è l'unico colloquio che hai fatto o intanto ne stai facendo anche altri. No, questo è l'unico colloquio che sto facendo perché, appunto come vi dicevo prima, io ho un lavoro fisso e in cui mi trovo molto bene, quindi non è il mio interesse andare a fare un colloquio per un'azienda di cui non potrai sapere cosa mi offre in futuro. Questo perché comunque nel caso lo apprendessimo, non vorremmo essere sicuri che dai poi. Sì, sì, io un lavoro sicuro ce l'ho e mi trovo molto bene, ma mi interessa sarebbe quello di venire a lavorare per voi, appunto per i motivi che vi ho spiegato prima, per l'anturietà dell'azienda e per i miei problemi di trasporto e di vicinanza alla mia famiglia, ecco. Con le domande siamo a posto. Avrei riferito che dai avesse pronti per i lavori, però se tu vuoi dire qualcosa positivo Io vedo che anche se è molto giovane ha molta voglia di imparare, anche se questo è un lavoro diverso da quello che sta facendo, però insomma ha le potenzialità. Stiamo comunque valutando perché abbiamo molte richieste e vogliamo selezionare le miele, però le faremo sapere. Ok, grazie. Va bene, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.